Romina Carrisi, stoccata a Loredana Lecciso? La risposta gela Torniamo a parlare della piccola di casa Carrisi. La figlia di Albano e Romina è uno dei volti più conosciuti nel mondo dello spettacolo Come sappiamo, Romina Carrisi è uno degli affetti stabili del talk show di Rai 1, oggi è un altro giorno Nonostante la sua presenza sia sempre gradita dal pubblico, la ragazza non ha partecipato nel salottino di Serena Bortone in quanto positiva al Covid Sia quanto dichiarato nelle interviste, che quanto pubblica sui social, Romina non ha mai nascosto il suo legame con i genitori Con la madre, e con il padre, ha un rapporto speciale, proprio loro le hanno trasmesso la passione per le arti. Ed un legame forte ce l'ha anche con i fratelli La figlia più giovane di Albano e Romina è volata con il padre in Croazia dalla sorella Cristel, e dal marito da Vort per passare il Natale insieme a loro, e godersi i nipoti Mentre Loredana lecciso è rimasta in Italia. Come sono i rapporti tra loro? La risposta lascia pochi dubbi Romina Carrisi frecciata a Loredana lecciso? Il commento social non sfugge Oltre ad essere presente in televisione nel talk show di Rai 1, Romina è molto attiva anche sui social Tramite il suo account social pubblica foto sia sulla sua vita privata che professionale Inoltre non perde mai occasione di interagire con i suoi 104.000 follower Poche ore fa, ha chiesto ai suoi seguaci di farle una domanda e chiedere qualche curiosità Uno dei suoi follower le ha chiesto se le manca Cellino San Marco La figlia di Albano e Romina non ha disatteso le aspettative a dar risposto in maniera secca La Cellino degli anni 90, sì. Mi manca tantissimo, scrive la Carrisi pubblicando uno scatto con la sorella Cristel quando erano bambine Una risposta che potrebbe far pensare che tra lei, e Loredana lecciso non scorra buon sangue Romina infatti vive a Roma, ed ha lasciato la terra pugliese già da qualche anno Nella villa a Cellino San Marco invece abita il padre insieme all'attuale compagna Loredana lecciso Ed i figli avuti con lei, Giasmine e Albano Junior, detto Bido Romina infatti vive al palazzo Azzalto 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 Azzalto